Si chiama Kathleen Katie Sorensen, è una donna della California, influencer, madre di famiglia. Si dovrà fare 90 giorni di reclusione in carcere, 60 potrebbero essere scontati, i lavori socialmente utili perché, in maniera consapevole, avrebbe denunciato un crimine che sarebbe stato totalmente inventato. Nel rapporto di specie concreta, la donna in questione avrebbe inventato il rapimento dei figli, ma il video è diventato virale sul web e ha ottenuto una marea di followers. La donna quindi è stata arrestata, è arrivata alla condanna, non può più utilizzare i social network. La trentenne ha presentato una denuncia di rapimento, pensa poi su Instagram attraverso l'uso di una clip, però era tutto falso, non era per nulla, e quindi è stata scoperta, sgamata come si dice nel linguaggio. Giovanile e quindi è arrivata alla condanna a tre mesi di reclusione in carcere. Non era per niente, i figli stanno bene, non sono stati rapiti, ma si era inventato tutto. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione del video di oggi, utenti di YouTube, iscrivetevi, mi raccomando, commentate. Un caro saluto a voi da narratori del video.